Mi chiamo Natascia Tonelli, insegno letteratura italiana all'Università degli Studi di Siena. Vi parlerò di Malevolge, luogo in inferno detto Malevolge, in particolare della Quinta Volge, quello che è uno dei luoghi più oscuri, oscuri in senso proprio, cioè bui, perché il nero domina su tutto il resto, su tutti gli altri colori, il nero che è il nero dei diavoli innanzitutto, il nero della pece, il nero persino del santo volto lucchese, cioè quel crocifisso ligneo adorato a Lucca ed evocato proprio qui fra i peccatori lucchesi dai diavoli. Peccatori che a loro volta anche essi sono contrassegnati dal colore nero perché provengono da una città che ha da poco visto, alla data del viaggio di Dante, dall'inizio del 1300, un rivolgimento al governo per cui appunto al comando della città si trova il partito dei guelfi neri. Questi barattieri lucchesi, per la gravità della loro colpa, godono oltretutto di un privilegio molto particolare perché come se ci fosse un ascensore che da Lucca li precipita direttamente all'inferno non devono nemmeno passare attraverso il giudizio di Minosse. In questo buio d'inferno cercherò di fare un po' di luce in cerca della risposta al motivo per cui proprio qui, fra indovini e barattieri, proprio qui fra tragedia nominata da Virgilio in chiusura del ventesimo canto e commedia nominata da Dante in apertura del ventunesimo, ecco proprio in questo luogo vada in crisi il rapporto di fiducia fra Dante e Virgilio. Virgilio che in questo luogo mostra di non essere infallibile come maestro e guida.